E la scorsa nottata, mentre noi stavamo dormendo, ma in altri paesi invece la vita si era già attiva da un bel po' di ore, viene fuori dai social della New Japan che Okada il 31 gennaio 2024, quindi ormai tra 12 giorni, poco più di 10 giorni, terminerà il suo contratto con la New Japan, ma non solo termina, ma non lo rinnoverà. Quindi dal 1 febbraio 2024 Okada lo ritroviamo free agent. Parliamo di questa cosa, ma prima di parlare guardate i nostri video, guardate tutto quello che facciamo, mettete mi piace, commentate, ditemi poi la vostra in base alle mie teorie fantasiose su Okada, cosa ne pensate, ditemi la vostra opinione, dove lo vorreste vedere. Iscrivetevi al canale sia YouTube che Twitch della Toviola del Ring e il link è qua sotto per iscrivervi anche ai canali Telegram, compreso quello delle notizie e altro. Comunque, dicevo, Okada terminerà il suo contratto con la All Elite. Okada è considerato ovviamente, storicamente, l'uomo di punta della New Japan, è tutto comunque, tutto quello che è stato costruito in questi anni, è stato tutto incentrato su di lui, al di là dei tanti titoli che gli ha andati, comunque ha preso il posto di Tanashi da quel punto di vista nella New Japan, quindi comunque il volto è a New Japan, che adesso si dovrà trovare nelle condizioni di trovare un altro o altri volti da far crescere e da far diventare come Okada o addirittura come Tanashi. Okada se ne va e qui cominciano le varie teorie. E tutto tanto, pochi mesi fa, un mesetto fa, era uscita fuori la notizia che Okada forse non avrebbe rinnovato il contratto e chi l'ha tirata fuori? O ha tirato a indovinare oppure aveva delle voci che gli avevano suggerito ciò. Okada, ovviamente qua in Italia noi forse vorremmo vedere Okada in una federazione degli Stati Uniti. Perché no? Magari resta in Giappone invece, e quindi che ne so, NOAA piuttosto che DDT, piuttosto che All Japan, Dragon Gate, mettete tutte quelle che volete, della federazione di giapponesi, anche le più sconosciute. Magari resta in Giappone. Però il sentore è che lui vada negli Stati Uniti. Ha lottato anche in Messico con la New Japan, quindi magari può provare anche a fare qualche capatina in Messico, chi lo sa. Però il sentore è che lui faccia che vada negli Stati Uniti. E Stati Uniti è inutile che ci giriamo intorno a WWE, o l'Elite, o la nuova TNA. Non ci sono indizi che dicano dove potrebbe andare. La WWE, la federazione, qui si parlava a dicembre, novembre, ora, grosso modo, in quei periodi lì. I promo di Nakajima, sì, di Nakajima sembravano indirizzati, in questo caso a Okada, comunque. E quindi, eventualmente, avrebbe già anche il suo primo sfidante, che sarebbe. E per carità, lo aiuterebbe anche molto agli inizi, anche se comunque Okada non ha bisogno di ambientarsi in dressio americano. Lui c'è già stato, ha fatto molti incontri, quindi non è quello il discorso. Ma è un discorso, magari, di incontri televisivi. Ecco, quella. E magari, in questo caso, Nakamura. Qui ti ho detto, non mi hai detto Nakamura prima. Vabbè, ok. Nakamura lo aiuterebbe tantissimo. Se WWE fosse, poi, ovviamente, WWE, potrebbe trovare un bel po' di sfidanti. All Elite sembrerebbe la soluzione più semplice. Tony Khan prende tutta la gente che legge fuori contratto dalle federazioni, cerca di portarla in All Elite. E quindi, perché non proprio Okada? Comunque è il top name della New Japan, il top name giapponese. Okada è uno di quei pochissimi nomi che è conosciuto anche all'estero. Forse è l'unico nome giapponesi conosciuto all'estero, quindi farebbe bene anche All Elite da quel punto di vista. E poi la TNA. Ha partecipato all'evento Post-Star to Kill. Tra l'altro, lo suo match lo vedremo, se non sbaglio, la prossima settimana. Avevo già visto che questa puntata non c'era, ma è la prossima. E vi faccio soltanto un piccolo spoiler. Non vi dico com'è finito il suo incontro, anche perché non lo so. Me lo immagino, ma non lo so. Prima o dopo il match, ora questo non lo so. Ho fatto vedere un video. Okada ha baciato il logo della TNA. Okada ha avuto dei problemi con la TNA. Era stato trattato malissimo anni fa. E appena uscì dalla TNA andò subito in New Japan. La New Japan lo fece subito diventare beneventa. La New Japan l'avevano mandato prima in Messico e poi in TNA. e quindi a fargli fare le ossa, come ha sempre fatto la New Japan con Young Lions. E quindi ha fatto molto scalpore questo suo bacio al logo TNA, perché non si sapeva ancora però quello che è successo. Quindi chissà, magari ci potrebbe essere inguaribili romantici come me, spererebbero nella TNA. Le cose migliori per lui, noi non le sappiamo. Ci mancherebbe io, chi sono io per suggerirgli. Io le suggerirei alla TNA, ve lo dico onestamente. Diventerebbe, partendo dal presupposto che la TNA voglia diventare quello che deve. E allora lo vedrai lì. Poi andare anche in All Elite, va bene, ok, ci potrebbe stare. Potremmo rivedere magari lui di nuovo contro Omega, lui di nuovo contro Osprey, o tanti altri match, Moxley, Danielson. Ce n'è poi, dotatori più giovani, oppure contro Takeshita, piuttosto che altri bandido quando ritornerà, Rush, ce n'è. Comunque quasi tutta gente che lui ha incontrato in una maniera o nell'altra. Onestamente incontri nuovi, mettiamola così, Noll Elite per Okada, me ne vengono in mente molto pochi in questo momento, più con gli ex WWE, che siano i Miro di turno, Moxley forse, no, Moxley l'ha già affrontato, e comunque me ne vengono in mente pochi, i lotatori della All Elite che lui non ha già affrontato. In WWE avrebbe, vediamo, al di là del Roman Reigns di turno, piuttosto che Cody Rhodes, vabbè, comunque affrontato, Finn Balor anche lui è già stato affrontato, però comunque anche lui lì avrebbe gente, un Gunter eventualmente, non mi ricordo se si sono mai incrociati nelle rispettive carriere, un po' di incontri li avrebbe, TNA potrebbe andare contro Alexander, piuttosto che contro Bay, contro Macklin, Ziegler, appena arrivato, quindi Nemet ormai, dobbiamo abituarci a chiamarlo Nick Nemet, quindi strade ne avrebbe. C'è poi da considerare la sfera privata, sua moglie comunque è un'attrice, ha comunque a che fare col mondo della televisione in Giappone, quindi vado a presumere che serva una schedula lui tale da poter andare in Giappone molto spesso, e allora la TNA casca a pennello, ne fa i tapix e poi torna. O potrebbe fare proprio il free agent, un po' in Messico, un po' negli Stati Uniti, un po' in Giappone, negli Stati Uniti però una cosa del genere non potrebbe farla in WWE, parlo di federazioni major, potrebbe farla, si presume non l'elite, ma non so per quanto, perché giustamente poi lo vorrebbero sotto contratto, o piuttosto che la TNA, ma anche lì poi lo vorrebbero sotto contratto. O se no, come dicevo all'inizio, resta in Giappone, e ce lo ritroviamo in NOA, piuttosto che in NOJAPEN, in NOJAPEN farebbe, praticamente comincerebbe una faida decennale contro Nakajima, perché ci sarebbero solamente loro due. O se no, ripeto, DDT e tante altre. Cioè, strade per Okada se ne aprono veramente tante. Ripeto, la mia speranza sarebbe più la TNA, speranza sia da tifoso della federazione, e speranza invece per cosa può fare, sia lui per la federazione, che la federazione per lui. E se no, ci sono tante altre strade. Quindi, ripeto, o la strada messicana, magari, visto che ci ha lottato, decide di stare nel SMLL per sei mesi, per dire, non è netto. Quindi, vediamo cosa passerà nella testa di Okada. Lo scopriremo, ovviamente, io credo nelle prossime settimane, se no addirittura nei prossimi giorni. Secondo me non sarà una cosa, ecco, credo che non lo vedremo nella famigerata Royal Rumble, perché il contratto comunque scade il 31 gennaio, a meno che gli diano dei permessi apposta, ma quella non vedremo. Se arriva in WWE, sarà eventualmente dal primo febbraio in poi. Quindi, vediamo, vediamo, ripeto, secondo me sarà una cosa veramente a breve termine, non lo scopriremo in brevissimo tempo, mi sa che firmo un contratto a breve, ovviamente sarò smentito, il prossimo contratto di Okada lo firmerà tra cinque anni, così scopriremo effettivamente dove andrà tra un bel po' di anni. Grazie a tutti, come vi ho detto all'inizio, ditemi la vostra, scrivete sotto, commentate, dove volete vedere Okada, dove secondo voi è meglio, e dove lo volete vedere anche come tifosi, come la fincino ho fatto io. Quindi, buona giornata a tutti, e ci rivediamo al prossimo. prossimo. Buona giornata a tutti. 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 Buona giornata a tutti.